Cromoterapia come in una spa, luci a led, frigoriferi, maxi schermo, sistema di videosorveglianza. Per i pazienti l'adegenza in clinica si trasforma così in un'esperienza positiva che li possa far sentire coccolati come a casa propria o come in un albergo a 5 stelle. È il progetto sollievo avviato tre anni fa dalla clinica di cura Piacenza. Ci sono persone che vengono dimesse dall'ospedale perché non ci sono gli estremi per un ricovero ma che in realtà non possono tornare al domicilio. Quindi noi prendiamo in carico la persona persona che però non è che andiamo solo a supportare dal punto di vista gestionale ma spesso facciamo indagini, abbiamo fatto delle diagnosi molto importanti in questi mesi. Ieri in occasione degli auguri natalizi abbiamo visitato un reparto ristrutturato che conta otto posti letto intitolato a colui che aveva fondato la clinica. Abbiamo aggiunto questo nuovo reparto che è veramente bellissimo. È inaugurato con il nome del dottor Agamennone che è il nostro ex dirittore sanitario fondatore importante della casa di cura Piacenza che purtroppo è venuto a mancare. Siccome ce l'abbiamo tutti nel cuore in primis il professor Mario Sanna che ci teneva tantissimo a dare il nome a questo reparto. È stato tutto creato grazie a Vittorio Sanna che è il nostro architetto che è il figlio del nostro attuale dirittore sanitario Mario Sanna e proprietario unico della casa di cura Piacenza. Il reparto è gestito da Nicola Rovellini che è il nostro coordinatore. Con il progetto sollievo si punta a ristrutturare tutta la clinica. Noi abbiamo ristrutturato metà reparto chirurgico, offrono gli stessi servizi. Lo scopo della nuova gestione è quello di ristrutturare completamente la casa di cura. Oltre alla qualità clinica che diceva la dottoressa Tirelli ci vuole anche il comfort alberghiero e quindi il nostro scopo è quello di ristrutturare tutta la casa di cura. La Sant'Antonino è stata ristrutturata completamente. Abbiamo dei progetti ancora da realizzare nel futuro e il nostro progetto sollievo è un progetto che veramente sia la casa di cura Sant'Antonino, la casa di cura Piacenza dà sollievo sia ai parenti che ai nostri pazienti, sia dal punto di vista clinico che dà anche sopporto anche ai familiari che sono in difficoltà, che fanno fatica a gestirle a casa.